di Radio Zimmari Web. Ci trovi a Panarea. A farvi compagnia nelle live sono sempre Nadia e Sasà. Radio Zimmari, la tua perfetta colonna sonora. Buongiorno, sono Sasà. Da Panarea fino a Latino America. Su Radio Zimmari, Nadia Solange. La Panarea, Radio Zimmari, con Sasà Santomauro. Eh beh, io aggiungo anche con la nostra Nadia Solange. Buongiorno Nadia, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, buon pomeriggio a voi che siete l'ascolto di Radio Zimmari. E allora amici, oggi è un po' una una live un po' particolare. Abbiamo unito il Buongiorno e Olie che diventa Buon pomeriggio e Olie insieme a Music della Tarde con Nadia insieme al Notiziario. Oggi ci avete tutti quanti insieme. Non è così Nadia. Sì, sì, saremo insieme questo pomeriggio. Tuffati su Radio Zimmari Web. Tuffo sull'isola più bella. La musica più bella. E allora buongiorno ai nostri amici italiani, nonché i nostri amici della Sud America, anche perché quattro ore indietro ragazzi, eh, siamo nel primo pomeriggio, perciò siete tutti svegli. Così potete ascoltare anche qualche pezzo di Nadia e le sue live. Oggi è un po' una giornata così, ragazzi. Intanto, arri buongiorno alla nostra Nadia Solange. Arri buongiorno a tutti voi. E allora Nadia, vuoi annunciare il primo brano in scaletta di questa prima live? Primo brano in scaletta, arriva per voi Sara Pura con il brano che si intitola questa è Radio Zimmari che trasmette da Panarea, una delle sette isole eoli. Il studio Sasa Santo Mauro, alla regia Nadia Solange. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti E vabbè in questo pomeriggio che saremo insieme andremo a leggere quelle che sono le notizie principali non solo delle isole eolie ma anche della provincia perché come vi ha detto Sasa saremo anche in compagnia del notiziario delle isole eolie. Poi andremo a parlare delle situazioni che sono successe stamattina sull'isola di Panarea ecco perché è uno dei motivi per il quale stamattina non siamo riusciti ad andare in live in cui parleremo e vi faremo conoscere un po' la situazione di Panarea e delle isole eolie. E come sempre vabbè un pomeriggio all'insegna della pioggia sull'isola di Panarea c'è il sole che ancora non ci vuole fare compagnia. Ma questo non è un problema perché c'è Radio Zimmari che comunque vi tiene compagnia vi fa ascoltare della bella musica e vi fa anche un attimino capire cosa succede nei nostri dintorni. Ebbè anche perché anche perché oggi amici stamattina è stata un po' una cosa un po' particolare ci riferiamo un po' ai servizi pubblici che come succede nei posti ecco nelle città dovrebbe aprire alle otto e mezza e invece invece qua si apre qua. Però questo amici è solo un piccolo accenno di quello che andremo a raccontarvi soprattutto quello che andrà a raccontarvi in aria non solo le notizie del notiziario ma anche le notizie del TG Zimmari per quanto riguarda Panarea. E allora andiamo al secondo brano in scaletta amici What's Love Got It? Arrivano Apollon Rossi e Javier Penna Radio Zimmari l'atmosfera giusta per te. Riaccendi la tua passione per la musica riaccendila con Radio Zimmari Web Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ebbè, intanto Nadia, vogliamo ricordare agli amici da dove trasmette Radio Zimari. Radio Zimari trasmette da Panarea, una delle sette isole Olie, e lo studio sulla spiaggia di Zimari. Brava, brava, brava. È preparata. What is love got to do it? Radio Zimari. In the world. Radio Zimari. Hot when the heart can be broken. Got to do it. Got to do it. E vabbè, stasso oggi non abbiamo salutato nessuno, anzi non hai salutato nessuno. Mannaggia, mannaggia. Intanto cominciamo a salutare un po' di amici, vabbè, i ragazzi delle isole Olie, un po' tutti, anche i signori. E poi, come non salutare gli amici del Nord Italia, partendo dal Piemonte, dalla Lombardia, dal Veneto. E poi, e poi il Sud America. Nadia? L'Argentina e il Brasile, nonché il Messico. Ebbè, già questo è un buon inizio, vuoi annunciare te il prossimo brano? Eh, come no, lei è Laura Pausini e il brano si intitola Un Buon Inizio. Tu lo sai dove va Ma è lei o non è lei? Certo che è lei Rimane vera a metà Come una statua di ghiaccio Scomparirà pian piano quello che ho passato Come dedichi a mano sopra un libro usato Bisogna dare il giusto peso ad uno sbaglio Le cicatrici servono a volare meglio Quando ci metto l'anima e poi mi perdo d'animo È il mondo che crolla, ma la mia testa dura, no? Cade il sorriso dalle labbra Come un bicchiere che si rompe sul pavimento Ci sono parole come bombe che bruciano dentro Ma non le ascolterò Non lascio vincere la rabbia E cresce come una foresta il mio cambiamento Scambio quello che temevo per ciò che sento E non un morto, ma almeno un buon inizio In mezzo a questo rumore E tra un milione di strade Cerco un futuro migliore Mi fermo e provo a brillare E chi mi guarda mentre ballo solo a un lento Non sa mai com'è bello darsi il proprio tempo È il brivido che provo sopra il precipizio La fine di una gara prima del giudizio Quando ci metto l'animo E poi mi perdo d'animo È il mondo che crolla Ma la mia testa dura, no? Cade il sorriso dalle labbra Come un bicchiere che si rompe sul pavimento Ci sono parole come pompe Tutto quello che cerchi Musica, informazione, intrattenimento Lo trovi in una sola radio Radio Zimari Web La tua radio La foresta è il mio cambiamento Cambio quello che temevo Perciò mi sento E non è molto Almeno è un buon inizio Cosa si è rotto in me? Cosa mi ha fatto tremare forte? È la paura che trasforma a volte L'insicurezza in libertà Bastasse un treno per scappare Scappare via Bastasse un trucco per coprire tutta l'apatia Bastasse un buon inizio per la mia malinconia Cade il sorriso dalle labbra Come un bicchiere che si rompe sul pavimento Prendi il tuo tempo Ascolta Radio Zimari Web È a Panarea Una delle sette isole oli Prendi il tuo tempo Ascolta Radio Zimari Web È a Panarea Una delle sette isole oli Eccoci qua amici Allora la nostra Nadia si sta preparando per le notizie In collaborazione con il notiziario delle isole oli E noi oggi partiamo con i primi I primi consigli per le vacanze sull'isola di Panarea Vediamo un po' cosa ci consiglia Panarea Enjoy Panarea è un'azienda giovane e dinamica Nasce dall'amore per il mare E ad oggi è esperta nel settore di noleggio gommoni e moto d'acqua Attenti a soddisfare le richieste dei nostri clienti Con particolare e continua attenzione Anche dei piccoli particolari Il nostro obiettivo è quello di farvi vivere delle esperienze uniche Ed indimenticabili nell'isola di Panarea E in tutto l'arcipelago delle isole eolie Esperienze e sensazioni Che solo il mare può farvi trovare Con le nostre moto d'acqua E i nostri gommoni eleganti e super accessoriati Il vostro viaggio sarà in completa sicurezza Ed in totale autonomia Oppure se preferite affiancati dai nostri skipper La nostra flotta vi attende Scegli tra i nostri modelli Con o senza patente nautica E dai inizio all'avventura Per informazioni chiama il numero Più 39 349 139 38 53 Oppure Più 39 333 839 8531 Enjoy Panarea Tutto quello che cerchi Musica, informazione, intrattenimento Lo trovi in una sola radio Radio Zimari Web La tua radio Radio Zimare Web Radio Zimare Web E dal notiziario delle Isole Olio Online troviamo Prima Pagina, Dirigi Billando. La questione antenne tiene ancora a banco non appena compaiono sui paesaggi italiani. La piantumazione di questi alberi di acciaio che generano frutti apparentemente tecnologici. I cittadini iniziano a mobilitarsi contro le nuove installazioni. La preoccupazione per i nuovi impianti creano anche originali cartelli di protesta che dicono che le antenne per nascere non hanno bisogno della pioggia, il potere e dei soldi. Spesso i regolamenti per le antenne sono in ritardo di 30 anni. Ormai il danno è stato fatto ed è irriversibile, dicono da molti comuni. A livello nazionale si cerca di far pagare a queste aziende qualche onere e tassa in più. Nei regolamenti c'è scritto che le antenne vanno installate lontano dalle zone maggiormente urbanizzate. Controcorrente eoliana, Infopoint. Alle Olie si parla tanto di nuovi progetti per il mare. L'idea popolare è di creare un Infopoint, laboratori, vetrina di prodotti itici, polo di promozione per il territorio. L'obiettivo è dare una fisionomia più moderna per le strutture sui moli con il supporto delle enormi associazioni che riempiono il territorio. Il pianeta pesca, il pesce ha ritrovato. Le attività di chi vive e lavora sul mare. L'educazione al consumo consapevole rappresentano il cuore del business per innovativi progetti. Strutture in concezioni da far utilizzare per imprenditori, itici per lavoratori, corsi di formazione e educazione ambientale. L'Iparisciopero, l'Assemblea dei lavoratori dei cantieri di cui in oggetto ha determinato che sabato 20 del mese di maggio 2023 i lavoratori occupati nei suddetti cantieri si asterranno dell'attività lavorativa per l'intera giornata, 6 ore e 20 minuti garantendo comunque i servizi essenziali così come previsto dalla legge. L'Iparis è comune dalla rubrica Totò io pago. L'AMI per l'incendio spessa di oltre 14.000 euro, per i rifiuti altri 105.000 euro. Salina, ottantesimo anniversario della fondamentale. della Santa Maria Salina al 9 maggio 1943 9 maggio 2023 sono trascorsi ben 80 anni dal fondamento del piroscafo di linea Santa Marina a largo di Vulcano situato da un sumergibile inglese il 9 maggio del 1943 al 9 maggio del 2023 la ricorrenza della più grande tragedia nel mare delle Olie è ancora viva per la perdita di ben 62 isolani persone e Olie dopo Malfa i divieti di bagnazione si allargano in tutte le isole anche per rischio crolli divieto di bagnazione in alcuni tratti di mare l'ordinanza è stata firmata dal sindaco Clara Rametta e fa seguito ad una relazione dell'ASP di Messina laboratorio di sanità pubblica che si è anche pronunciato dall'assessore regionale della salute dipartimento attività sanitaria e osservatorio epidemiologico i tratti di mare interessati sono l'area portuale del comune di Malfa nel versante che va dal lato est al porto del lato ovest per una lunghezza di mare di 300 metri è ancora pollara da scalo di allaggio a fili di blanda già interessata dall'ordinanza dell'ufficio circondaliare marittimo di Lipari per una lunghezza di metri 2380 l'area che va dalla località Punta Perciato a Punta Fontanella per una lunghezza di 1960 metri area località scarico per circa 400 metri che va dalla località Galera a sopra gli Uizi per circa 3620 metri Lipari sabato al museo la vita quotidiana come storia presentazione del libro sabato 13 maggio 2023 di Antonietta Bernardoni la vita quotidiana come storia senza paure e senza psichiatria premio solidarietà come ogni anno torna la serata dedicata al premio solidarietà 2023 una serata benefica all'insegna del divertimento tanti ospiti di rilievo del panorama italiano e presentazioni di progetti importanti per il territorio locale amare e prendersi cura della propria terra è il primo gesto di altruismo che tutti noi dovremo fare come anche più piccoli gesti fanno la differenza aderisci ai progetti e seguici sulle diverse piattaforme per rimanere aggiornato per maggiore informazione sull'attività potete visitare il sito www.associazione iera.it carica e scarica a cura di salvatore leone non c'è pace per il futuro della mobilità elettrica le colonine di servizio per ricaricare le auto elettriche durante il collegamento con gli utenti da un lato forniscono l'energia e dall'altro attingono ai dati dell'account dell'utilizzatore collegati ad accedere a tutti i dati sensibili e contenuti quanti rischi per l'utente per la vettura hackerati con il virus trasmissibile anche a vetture dello stesso modello una fonte di crimine e inesauribile per portare al verde il portafoglio di chi crede nel futuro verde la famosa ricarica ormai è per tutti buoni e cattivi un caricare e scaricare energie alternative con il futuro ad alto rischio e olie e project nexagene di mirco salta la macchia la nuova iniziativa soprannominata project nexagene sembra essere la successiva all'operazione world speed dell'amministrazione trump che ha accelerato lo sviluppo di vaccini contro il covid 19 ma ci sono alcune domande che sorgono spontanee chi finanza il progetto e perché il dipartimento della salute e dei servizi umani degli stati uniti si sta coordinando con attori del settore privato inoltre se le terapie esistenti hanno costantemente perso la loro efficacia come possiamo essere sicuri che questo nuovo progetto avrà successo Nadia Solange presenta le ultime notizie news e novità tutte le info anteprime approfondimenti interviste sul TG Zimari in collaborazione con il notiziario delle Isole Olie Cassazione sentenze ordinanza di interesse pubblico trasgredire l'ordinanza del sindaco non è reato se il fatto interessa solo il vicino e non la collettività la Cassazione interpreta così l'articolo 650 del codice penale che punisce l'inosservanza del provvedimento dell'autorità l'inosservanza dell'ordinanza emessa dal sindaco non costituisce al reato previsto nell'articolo 650 del codice penale nel caso in cui i lavori prescritti dall'ordinanza sindacale di messa in sicurezza dell'immobile di proprietà dell'imputato servono a rimuovere una situazione fonte potenziale di pericolo per il solo confinante e non dell'intera collettività così la Corte di Cassazione l'ha definito con la sentenza questa è Radio Zimari che trasmette da Panarea De Lucia non possiamo perseguire un paese che ha fatto finta di non vedere Messina Denaro il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia è tornato a parlare delle coperture della latitanza di Matteo Messina Denaro il voz di Castelvetrano arrestato a Palermo lo scorso 16 gennaio nel corso del suo intervento a un'iniziativa organizzata a Cinisi da Casa a memoria Felicia e Peppino impastato per il 46 anniversario dell'omicidio del giornalista e militare ucciso dalla mafia ci sono ha detto il procuratore capo due livelli quello di chi ha contribuito alla latitanza di Matteo Messina Denaro e quello dei latitanti che non possono non aver visto uno che stava a Campobello di Mazzara da anni noi magistrati perseguiamo chi lo ha aiutato non possiamo certo perseguire un paese che ha fatto finta di non vedere ciò non toglie che questo sia un enorme problema civile Policlinico di Palermo in arrivo una stangata da 7 milioni una vera e propria stangata per il Policlinico che dovrà versare poco meno di 2 milioni e 400 mila euro a 20 dipendenti che avevano fatto causa perché era stato loro applicato il contratto del personale universitario anziché quello più favorevole del comparto sanitario ma il contenzioso rischia di diventare davvero gigante perché per gli stessi motivi pesano sul capo di Paolo Giacone altri due giudizi per oltre 4 milioni e 800 mila euro presentati da una quarantina di dirigenti amministrativo le sentenze definitive dovrebbero arrivare a dicembre ma se dovessero vincere i lavoratori il Policlinico si troverebbe a sborsare complessivamente una cifra mostruosa di oltre 7 milioni di euro Nadia Solange presenta le ultime notizie news e novità Ponte sullo stretto di Messina ok dalle commissioni della Camera la commissione trasporti ambiente della Camera hanno approvato il mandato ai relatori a riferire in aula sul decreto Ponte il provvedimento va in aula oggi alle ore 15 per l'avvio della discussione generale il decreto Ponte contiene la disposizione urgente per la realizzazione del collegamento tra la Sicilia e la Calabria e noi così con le notizie per oggi abbiamo finito vi ricordo che li potete trovare su notiziario e olle.it e su gds.it la musica è un posto dove niente ci fa del male vedrà che il cielo non ci trova è un posto dove niente ci fa del male per questa radio sin marì è una radio che trasmette buona onda trasmette buona onda e tanta energia radio z marì web enjoy panarea è un'azienda giovane e dinamica nasce dall'amore per il mare e ad oggi è esperta nel settore di noleggio gommoni e moto d'acqua attenti a soddisfare le richieste dei nostri clienti con particolare e continua attenzione anche dei piccoli particolari il nostro obiettivo è quello di farvi vivere delle esperienze uniche ed indimenticabili nell'isola di panarea e in tutto l'arcipelago delle isole eolie esperienze e sensazioni che solo il mare può farvi trovare con le nostre moto d'acqua e i nostri gommoni eleganti e super accessoriati il vostro viaggio sarà in completa sicurezza ed in totale autonomia oppure se preferite affiancati dai nostri skipper la nostra flotta vi attende scegli tra i nostri modelli con o senza patente nautica e dai inizio all'avventura per informazioni chiama il numero più trentanove tre quattro nove centotrentanove trentotto cinquantatré oppure più trentanove tre 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 otto tre nove otto cinque tre uno enjoy panarea e noi ritorniamo in studio amici dopo il notiziario della voce di Nadia e i consigli per le vacanze panarea intanto Nadia bevi un po' d'acqua anche perché oggi le notizie erano davvero tante vabbè come al solito ormai sono abituati i nostri ascoltatori vabbè il fatto è che non sono abituato più io se vi ricordate abbiamo quando abbiamo cominciato facevamo il TG insieme praticamente da ottobre da quando è che abbiamo cominciato la collaborazione con con il notiziale e allora amici ritorniamo ritorniamo ad ascoltare musica arrivano i cugini di campagna insieme a Massimo Alberti lettera 22 Radio Zinmari l'atmosfera giusta per voi io non sono altro che un bambino che non sa contare e vorrebbe dirti che gli manchi senza le parole io non sono altro che un dottore che si è fatto io non sono altro che un palazzo in costruzione e se mi guardi con quegli occhi amore mi farai morire STS Radio Zinmari Web che non sa finire io non sono altro che un giardino senza neanche un fiore io senza di te non sono altro questa è la Radio Zinmari Web dove ascoltas lo meglio de lo meglio della musica comienza per voi Nadia Solange convincermi a rinchiuderti dentro un singhiozzo o altro per lasciarmi in un riflesso dentro uno specchio e non era mai il momento giusto e non era mai il momento giusto per parlare non lasciarmi solo non lasciarmi qui non lasciarmi solo non lasciarmi qui ora che ho trovato le parole già mi salta il petto come treni in corsa tra le nuvole uno spazio alto con le due organi che distruggono ma per dispetto credo credo anch'io che non puoi darmi il mondo se non parti il mondo come lo guardo anch'io non lasciarmi solo non lasciarmi qui non lasciarmi solo non lasciarmi qui e allora amici lasciamo così i cugini di campagna insieme a Massimo Alberti lettera 22 che credo che è il brano che ha partecipato a Sanremo no Nadia? fatta un po' di versione ah ok 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 e allora allora vogliamo cominciare a parlare anzi no andiamoci ad ascoltare il prossimo brano che è un pezzo per gli amici della Sud America per gli amici spagnoli e poi cominciamo a parlare un po' della situazione riguardante i servizi pubblici sull'isola di Panareale vai Nadia prossimo brano che abbiamo scelto per voi è Benjam Murano insieme a Fede Ibarra con il brano che si intitola Diva Virtual Diva Virtual Diva Virtual Grazie a tutti. 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 Martedì a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. a tutti. Sunset disco.